Noi abbiamo una forte proposizione programmatica che in questi giorni sarà in modo organico esibita e la gente potrà rendersi conto che non abbiamo idee da creare, ma le idee le abbiamo trasformate in fatti già da molto tempo e che ci teniamo un grande lancio del nostro territorio che debba servire a creare la cosa che più manca, ecco l'occupazione, stipendi, lavoro, giovani che non vanno via. Cantiere aperto è stato il concetto con cui abbiamo cercato di, siamo ancora e cresce Cantiere aperto, benché vi siano stati dei piccoli problemi, ma abbiamo dimostrato che questo noi non lo volevamo legare a una persona, a un simbolo fisico, a un simbolo individuale, ma è un concetto, sono delle idee che possono camminare sulle gambe di tutti. Stiamo parlando con la gente, abbiamo enunciato quelle che sono le nostre scelte strategiche e abbiamo chiesto e annunciato a tutti che chi condivide queste proposizioni, è a livello programmatico, è a livello di metodo, è un buon ospite in casa Cantiere aperto. Grazie. Grazie.